Come accedere alla cartella di classe e come caricare il materiale, come trovarlo. La prima operazione da compiere è collegarsi al sito della scuola www.cms-senigallia.it Nella stringa in corrispondenza di fatti riconoscere, in alto a destra, clicco, mi comparirà una schermata in cui dovrò inserire nome utente e password. Il nome utente è agr096, la password è acceglio con due c. Una volta digitati password, username e password, verrò indirizzato alla cartella di classe, e la cartella della prima CSA, cliccando di nuovo su agr096 cartella personale. A questo punto compare il contenuto della cartella di classe, in cui è stata caricata per ora la cartella di GeoStoria, all'interno della quale trovo i lavori di gruppo relativi a questa disciplina e il materiale, gli appunti relativi alle lezioni che abbiamo svolto finora. Troverò in questo caso gli appunti sulle lezioni relative alla pre-storia. Se voglio tornare indietro ai lavori di gruppo, clicco in alto sulla cartella GeoStoria e se voglio caricare la mia PowerPoint, non dovrò fare altro che cliccare ai lavori di gruppo e in alto a destra, cliccare su Aggiungi, Aggiungi file, nominare il file che intendo caricare, Out of Africa, in questo caso la PowerPoint, gruppo di Gaia, Falasca e Inco, clicco su Scegli file e sceglierò un file dal mio computer. Una volta individuato il file, clicco, apri e di nuovo salva e attendo che la piattaforma carichi il file, come in questo caso, per uscire di nuovo su AGR 096, Logout esci.